Buonasera e benvenuti alla seconda edizione di G News, apriamo con la cronaca e andiamo a fermo per la vicenda dell'istituto socioeducativo di Grotta al Mare. Finito l'onore delle cronache per i cinque educatori arrestati per maltrattamenti e sequestri di persona nei confronti di otto ragazzi autistici che erano all'interno della struttura. Bene, oggi ci sono stati gli interrogatori, appunto la procura di fermo dei cinque arrestati che hanno negato ogni responsabilità, hanno respinto le accuse al mittente. Vediamo. I cinque educatori della casa di Alice di Grotta al Mare arrestati martedì scorso per maltrattamenti e sequestro di persona ai danni di alcuni ragazzi e bambini autistici hanno chiesto di essere scarcerati. Roberto Colucci, 47 anni, coordinatore presso il centro, Rosanna Raponi, 53, Maria Romana Bastiani, 46, Susanna Ciaccioni, 43, Luciana Damario, 53, sono comparsi stamattina davanti al GIP di fermo Andrea Cozzolino e al PM Domenico Seccia. Il GIP si è riservato alla decisione sull'istanza di scarcerazione in attesa del parere del PM, al quale i verbali degli interrogatori sono già stati trasmessi. Non dovevano far male a loro stessi né agli altri, questo il motivo di alcune pratiche adottate nella gestione dei disabili del centro, secondo le quattro operatrici. Gli stessi metodi. Al termine degli interrogatori, i difensori dei cinque indagati si sono detti soddisfatti. I magistrati hanno chiesto spiegazioni che sono state fornite con dovizia di particolare, ha riferito l'avvocato Francesco Voltattorni, che assiste le quattro operatrici. Il penalista ha consegnato al giudice la normativa regionale sulle strutture accreditate che prevede il ricorso a stanze e time-out, la stanza azzura della casa di Alice, chiamata così per il colore delle pareti. Questi locali sono necessari per evitare atti di autolesionismo da parte dei giovani autistici o violenze nei confronti degli altri ospiti, hanno spiegato le operatrici, sostenendo di non aver mai commesso abusi o maltrattamenti. Mentre alle quattro donne sono state chieste spiegazioni su ogni singolo episodio, gli ospiti lasciati seminudi nella stanza di contenimento e gli strattonamenti, il responsabile della struttura Roberto Colucci ha fornito, su richiesta del GIP e del PM, chiarimenti tecnici sul trattamento socioeducativo applicato sui pazienti della casa di Alice. Colucci è l'unico tecnico della struttura in possesso di una laurea e di cognizioni specifiche su come trattare persone che, come nel caso in questione, sono affette da autismo in forma molto grave, ha detto il difensore e l'avvocatessa Donatella Di Berardino. Che alcuni ospiti fossero nudi nella stanza azzurra ha proseguito e dovuto al fatto che l'obiettivo era proteggerli da episodi di autolesionismo che nei momenti di grave crisi sono possibili con qualsiasi oggetto o indumento. E il sindaco di Grotta Mare, Enrico Piergallini, è intervenuto sulla spinosa questione affermando che comunque il suo comune è costituito come parte lesa. Vediamo. Sindaco, lei, in quanto responsabile del comune, costituirete parte civile in questa storia. Ci può raccontare breve quello che è successo in realtà in questo centro? Sì, diciamo che siamo tutti sconvolti dalla notizia perché il centro Casa di Alice nacque nel 99 come un centro d'accoglienza. Negli anni è cresciuto, si è strutturato, nel 2009 abbiamo trasferito i locali nella stanza che vedete e adesso sapere che all'interno del centro si svolgessero pratiche così come documentate da filmati senza aver avuto segnalazioni prima, senza aver avuto lamentele, vederle poi è stato veramente sconcertante. Per questo noi non possiamo accettare che un servizio pubblico che doveva essere un'eccellenza e che per giunta è finanziato con i soldi pubblici sia stato gestito probabilmente in maniera sbagliata e in maniera penalmente perseguibile. Quindi aspettiamo risultati dell'indagine, abbiamo fatto anche delle verifiche interne al comune per vedere se tutte le procedure di controllo fossero state attivate, quando saranno individuati responsabili il comune si costituirà parte civile per vedere risarcito il danno d'immagine e il danno provocato al cuore di Grotta Mare. Infatti avendo visto le immagini le sensazioni sono negativissime e quali sono per il bando, le prossime azioni che farete sicuramente controllerete meglio le persone che agiranno in questo tipo di servizio? Beh diciamo che il controllo era sempre avvenuto perché il comune appalta per conto della rete dei comuni a cui appartiene Casa Dalice il servizio di una cooperativa attraverso un bando che è nel dettaglio prevede personale qualificato, prevede dei controlli che sono stati effettuati, prevede il coinvolgimento di strutture sanitarie come l'Asur dell'Ambito 21, dei dottori, quindi di tutta una serie di persone che comunque presiedevano al progetto della struttura. Il controllo c'è stato, probabilmente il personale che era all'interno della struttura, stando alle immagini, ha superato un limite che non doveva superare un limite di gestione ma un limite anche nel modo di relazionarsi con persone che dovevano difendere e che invece non hanno difeso. Ripeto, aspettiamo di ritornare le indagini perché in questo momento non è opportuno esprimere giudizi, però qualcuno dovrà risarcirci. C'è una nota di Pergallini, l'amministrazione comunale di Grottamare invierà una contestazione di addebito alla cooperativa Coinema che gestisce il centro di urno per ragazzi autistici, casa di Alice, finito appunto al centro di un'inchiesta della procura di fermo. Alla Coinema il comune chiede informazioni riguardo agli episodi accaduti all'interno del centro. Domani è convocata una riunione con altri comuni della rete, Castel di Lama, Cupra Marittima, Monsampolo del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto e Castel di Lama. L'area Vasta 5 e l'ambito sociale e territoriale 21 per approfondire la vicenda. E anche una delegazione di parlamentari ha visitato ieri la struttura ormai divenuta al centro della ribalta nazionale. Il deputato PD Davide Faraone ha annunciato i prossimi provvedimenti legislativi al vaglio del Parlamento per evitare che queste situazioni in futuro possano ripetersi. Ci vediamo il servizio di Cristiano Pietropaolo e Vincenzo Ingiulla. Onorevole Faraone, questo evento ha colpito molto la città. Cosa potete fare voi come politica per evitare che queste cose non accadano più? Intanto ha colpito il paese, l'Italia intera, perché quelle immagini sono immagini che hanno colpito tutti noi. Agiremo con la durezza necessaria affinché intanto la situazione di Grotta a Mare si risolva, ma al tempo stesso affinché non si ripeta una roba di questo genere nel resto del paese. Ovunque ci sarà una segnazione del disagio, o perché c'è un'indagia magistratura, o perché ce la segnalano i cittadini, il Partito Democratico ci sarà. Cosa farete attivamente in questo senso nella breve scadenza? Questa struttura per noi non è adatta e va chiusa innanzitutto, quindi va creata immediatamente una struttura alternativa che possa ospitare questi ragazzi, questi soggetti autistici. Al tempo stesso noi faremo tutte le verifiche politiche che accertino responsabilità anche di chi non ha controllato, se c'è qualcuno che non ha controllato, se ci sono dei protocolli e le indicazioni che dà la ASL sbagliate rispetto a come si tratta una patologia di questo tipo, il Partito Democratico a questo punto di vista non avrà pietà di nessuno quando si gestiscono in maniera negativa servizi così delicati. Quindi sicuramente interverrete proprio a brevissimo giro? Considerate che già siamo intervenuti con la nostra presenza il giorno dopo che è scoppiata la vicenda, dopo che sui fatti concreti sentirete ancora parlare di noi. Ancora cronaca dalle Marche, un incidente mortale è accaduto sulla statale 16 al confine tra Loreto e Porto Recanati, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 ma purtroppo i soccorsi sono stati inutili, sul posto è anche una pottuglia della Polizia Municipale di Loreto per ricostruire la dinamica dell'incidente, stando a quanto è stato possibile ricostruire l'uomo ha avuto un malore alla guida e poi c'è stato l'incidente, ha perso il controllo del mezzo e è andato a sbattere proprio contro un muraglione. Ancora cronaca da Grotta Mare, una tragedia nel tardo pomeriggio di ieri, un uomo ha perso la vita negando in mare, l'uomo un estracomunitario di 43 anni residente a Cubra, verso le 18 è entrato in acqua con la sua ragazza per fare il bagno, i due si sono allontanati dalla riva con un materassino quando all'improvviso sono caduti entrambi in acqua. La ragazza, seppur in difficoltà, è riuscita ad aggrapparsi al materassino, mentre l'uomo ha perso il controllo e non ce l'ha fatta. Arrestare a galla, la coppia è stata annotata dalla spiaggia e sono arrivati i soccorsi, ma per l'estracomunitario era davvero ormai troppo tardi. E torniamo in Abruzzo, un pensionato di 74 anni, è stato investito poco prima delle 16 sul lungomare Sirena a Tortoreto, è stato travolto da una vettura mentre attraversava la strada, il ferimento dell'uomo che non corre pericolo di vita è avvenuto all'altezza all'hotel Ambassador, ha riportato un politrauma, quello più importante al torace, l'uomo è stato trasportato dall'equipaggio medicalizzato di Alba Adriatica all'ospedale di Giulianova. E a Pescara tenta il suicidio ingerendo un'intera confezione di medicinali e manda ad un amico un sms inequivocabile per annunciare le sue intenzioni, l'uomo si attiva per salvarle e alla fine riesce. Nell'intento è accaduto nel pomeriggio di ieri a Montesilvano, lei 52 anni portata in ospedale fuori pericolo, l'amico non riuscendo ad aprire la porta di casa della donna ha chiesto aiuto a polizia e vigili del fuoco, la donna trovata priva di sensi è stata poi soccorsa dal personale del 118. E torniamo nelle Marche ad Ascoli, la Corte d'Appello di Ancona ha confermato la condanna a sei anni di carcere che il GUP aveva emesso il 7 febbraio scorso nei confronti della giovane madre di Gerriana accusata di aver fatto prostituire la figlia a 14enne con un imprenditore abruzzese residente ad Ascoli. confermata anche la condanna a 4 anni per l'uomo e due vennero arrestati il 5 agosto del 2013. La donna con un regolare permesso di soggiorno in Italia era accusata di induzione e sfruttamento della prostituzione minorile aggravata dal rapporto di parentela all'anziano, era contestato invece il reato di atti sessuali su una minore in concorso con la madre. Un primo episodio sarebbe avvenuto nel luglio del 2013 in cambio di 5.000 euro senza però andare a buon fine. Il 5 agosto i carabinieri dopo la denuncia della 14enne scoprirono gli indagati in fragranza di reato dopo aver pedinato la ragazzina. La minore era stata condotta negli uffici dell'azienda che l'anziano gestisce a Santigidio e la Vibrata dove nel frattempo erano state piazzate delle telecamere nascoste. La nigeriana è stata assolta invece per fatti simili risalenti al 2009. Torniamo in Abruzzo, c'è anche un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zoprofilattico Caporale di Teramo tra i 41 indagati dalla magistratura romana che indaga sul traffico dei vaccini veterinari contro l'influenza aviaria e la lingua blu degli ovini che nei giorni scorsi ha portato alla ribalta il nome di accusati d'eccellenza come l'ex direttore dell'Istituto Zoprofilattico Caporale Vincenzo Caporale e il segretario generale del Ministero della Salute Romano Marabelli. Si tratta del professor Santino Prosperi Teramano, docente dell'Università di Bologna, presidente in pector del CDA del nuovo istituto di Campo Boario. Il suo nome è come quello di un altro scienziato vicino all'IZS Teramano spesso presente in commissioni esaminatrici per concorsi. Ugo Vincenzo Santucci figura soprattutto nella parte d'indagine che affronta il tema specifico di quella cupola scientifica che avrebbe non soltanto valutato l'efficacia dei vaccini ma che ne ha poi deciso la somministrazione a copertura totale sul territorio nazionale. E si è avvalso della facoltà di non rispondere il professor Giuseppe Sabatini comparso questa mattina dinanzi al GIP del Tribunale di Chieti Paolo Di Geronimo per l'interrogatorio di garanzia. Il primario del reparto di neonatologia dell'ospedale di Chieti si trova agli arresti domiciliari dello scorso 14 luglio con le accuse di violenza sessuale e corruzione. Secondo le ipotesi di reato Sabatini avrebbe molestato sessualmente madre di bambini episodi che si sarebbero verificati nel suo studio ospedaliero e immortalati da una telecamera piazzata dai carabinieri del NAS che stavano indagando sulla base di un esposto. Quanto alla corruzione vi sono altre quattro persone indagate anche se poi finite ai domiciliari. E sesso foto e ricatti a luci rosse arrestate due giovanissime escort di Chieti una vicenda che si è sviluppata a Roma ma che ha coinvolto due ragazze teatine. Vediamo. Due ragazze di Chieti di 22 e 25 anni sono state arrestate nei giorni scorsi per aver ricattato un giovane romano conosciuto su Facebook. La procura che indaga è quella di Roma dove vive la vittima che ha denunciato le due escort abruzzesi. L'inchiesta riportata oggi dalle pagine romane del messaggero è scattata due settimane fa quando le ragazze hanno chiesto al romano 500 euro per non diffondere delle sue foto compromettenti. Dopo poche ore sono finite manette e ora l'inchiesta va avanti perché gli inquirenti sospettano che ci possono essere altre vittime che per paura o per vergogna non hanno denunciato le due. L'incontro che ha fatto scattare l'indagine è avvenuto due settimane fa. In un primo momento si è trattato solo di una conoscenza virtuale su Facebook per poi proseguire la discussione in una chat tematica per amanti di sesso estremo e feticisti. Poco dopo è arrivato lo scambio dei numeri di telefono per definire i dettagli dell'incontro faccia a faccia. Poi è avvenuto in un appartamento preso in affitto dalle ragazze in zona San Lorenzo nella capitale. Durante le pratiche a luci rosse il ragazzo non si è però accorto di essere stato fotografato dalle due abruzzesi. È tornato a casa tranquillamente ma poco dopo è cominciato l'incubo. Le due infatti gli hanno spedito tramite WhatsApp una foto esplicita del loro incontro e lo hanno minacciato di pubblicare le foto sul suo profilo Facebook se non avesse consegnato loro 500 euro. Il ragazzo non ci ha pensato due volte ed è andato subito dai carabinieri che hanno organizzato la trappola. La vittima ha così fatto finta di cedere al ricatto e ha dato appuntamento alle due in una piazza di Roma dove però si sono presentati anche i militari in borghese che a distanza hanno seguito lo scambio. All'atto della consegna della busta con i soldi i carabinieri sono intervenuti e hanno arrestato le due ragazze portate prima a Rebibbia e attualmente tornate in Abruzzo con l'obbligo di dimora. Ancora cronaca, in gravi condizioni una donna che era alla guida di una scooter travolto da una moto condotta da un ragazzo di Gabicce. L'impatto è stato violento, la donna di 63 anni è rimasta a terra e sono subito stati attivati i soccorsi compreso l'intervento dell'eleambulanza che ha trasportato la scooterista all'ospedale di Torrette sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente, la polizia stradale di Pesaro. È paura stamattina per uno sciame di api che ha invaso la strada di Contrada col Maggiore a causa di un incidente stradale. Siamo a Tolentino, un furgone che trasportava otto arni, ognuna contenente 800.000 api. verso le 8.30 si è scontrato frontalmente con un'auto, con l'urto. Una delle arnie si è spaccata, così le api hanno invaso i due veicoli e gran parte della strada. Sul posto è arrivata l'ambulanza per trasportare all'ospedale di Tolentino il conducente della vettura che ha riportato una piccola ferita al braccio. Sono arrivati anche i vigili del fuoco per catturare lo sciame. La strada è stata chiusa ovviamente per consentire l'operazione. Mezzi di cattura illegali per la fauna selvatica sono stati scoperti dal personale del Corpo Forestale dello Stato del Comando di Rocca Santa Maria durante i normali servizi di controllo del territorio. Gli strumenti erano collegati in località Sette Fonti di Valle Castellane in pieno parco nazionale ed erano costituiti nel caso specifico da lacci in acciaio di circa due metri ben legati ad alberi posizionati nascosti tra la boscaglia, lungo sentieri frequentati dalla fauna selvatica protetta in modo da intrappolare i selvatici al loro passaggio. Dal fatto è stata tempestivamente interessata l'autorità giudiziaria che ha autorizzato e convalidato il sequestro. Sono in corso ovviamente le indagini per l'individuazione dei responsabili. I carabinieri della compagnia di Giulianova hanno denunciato in Stato di Libertà alla Procura della Repubblica un macedole di 27 anni residente a San Benedetto del Tronto responsabile di furto aggravato in concorso. L'uomo insieme a due complici in corso di identificazione nella notte dell'11 luglio dopo aver forzato la porta d'incresso è entrato all'interno di un'agenzia di scommesse da dove ha portato via circa 2.500 euro custoditi all'interno di un cambia monete e due casse porta valori. E cambiamo argomento al centro semi residenziale per disabili di Sant'Atto. A Teramo sono in scadenza i progetti. Obiettivo bene è stato sollecitato in tal senso il governatore d'Abruzzo Luciano D'Alfonso. Vediamo. Presidente aiutaci, per noi la piazzetta è la vita. L'invocazione è arrivata intonata su un motivetto elaborato per la circostanza dagli ospiti del centro semi residenziale per disabili di la piazzetta di Sant'Atto a Teramo al presidente dell'Aggiunta regionale, Luciano D'Alfonso, in visita ufficiale alla struttura gestita dalla fondazione Anfansollus. Il centro, che ospita almeno 30 persone e 15 addette all'assistenza per vari laboratori di musica, botanica, ceramica e disegno, vive grazie a progetti obiettivo ad ottobre e scadenza il finanziamento. La piazzetta offre un'ospitalità semi residenziale e soprattutto il recupero di preziose forme di autonomia. Il presidente, che ha subito risposto all'invito di canticchiare con i disabili le strofe invocative, ha poi incontrato il presidente della fondazione, Enzo De Miglio, il direttore amministrativo Paolo D'Angelo e i consiglieri di amministrazione, ponendo domande e chiedendo di approfondire il piano finanziario. Permangono ancora problemi di restrittività e di impatto del piano di rientro sul patto di stabilità. Occorre però garantire il flusso costante alla struttura, anche migliorando l'offerta, ha spiegato D'Alfonso. Si tratta di valutare le modalità che possano garantire queste forme di ospitalità. Il presidente era accompagnato anche dal capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Sandro Mariani. E restiamo a Teramo, blitz del governatore, stamani a Palazzo di Città per incontrare il sindaco Maurizio Brucchi. Un saluto cordiale, dieci minuti di colloquio privato, poi il sindaco gli ha presentato, il vice sindaco Mirella Marchese, prima di accomiatarsi per raggiungere il prefetto Walter Crudo per una riunione operativa sulla viabilità, e poi il commissario della Tercas, Riccardo Sora, sul tavolo dell'incontro con Brucchi, i fondi per il castello della Monica. Il governatore ha rassicurato Brucchi e ha assicurato la disponibilità del finanziamento e soprattutto un piano operativo da programmare per il recupero dell'ex manicomio. E torniamo nelle Marche. Emanata l'ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, per il maltempo che ha investito le Marche, e Senigallia, lo scorso maggio, stabilisce le prime disposizioni urgenti, consente di chiedere la sospensione delle rate di mutuo e contiene due adempimenti importanti, uno sugli enti locali e un altro per la ricognizione del fabbisogno del patrimonio pubblico. Soddisfatto il governatore della Regione Marche, Gian Mario Spacca, perché il Dipartimento ha accolto alcune proposte dello stesso ente. Torniamo in Abruzzo. Un'analisi congiunta. Regione sindacati per cancellare fuori dal periodo scolastico le corse ARPA che non trasportano passeggeri. È stata condotta nel corso di una riunione, presieduta dal consigliere regionale delegato Camillo D'Alessandro, che si è tenuto a Pescara presso gli uffici dell'assessorato ai trasporti. C'è stata condivisione sulle finalità da raggiungere per evitare di far girare autobus a vuoto, ha affermato D'Alessandro, con conseguente sperpero di risorse destinate al trasporto pubblico locale, risorse che potrebbero anche essere riprogrammate per sopperire ad altre carenze che sono emerse nell'ambito del sistema trasportistico regionale. La riprogrammazione dei servizi estivi dell'ARPA partirà a regime dal 2015, ma una prima fase sarà attuata già dal prossimo mese di agosto. Nel corso dell'incontro sono state anche ipotizzate misure di contenimento della spesa con particolare riferimento a quelle legate alle emissioni e alle trasferte di dirigenti ed impiegati. Restiamo in Abruzzo, andiamo a Martinsicuro. Il Comitato Difesa Ambientale di Martinsicuro prende posizioni sulla recente sentenza del TAR che ha annullato l'ordinanza sindacale delle emissioni rumorose della VECO. La storica fonderia del Comitato però lancia attacchi a Mauro Paci, segretario del Partito Democratico. Vediamo il perché in questo servizio. Sulla vicenda VECO, la storica fonderia di Martinsicuro è al centro di una battaglia amministrativa. Di recente il TAR ha reso illegittimo il piano acustico e l'ordinanza sindacale. Prende una posizione chiara anche il Comitato Difesa Ambientale di Martinsicuro. In una nota, gli attivisti del Comitato lanciano raseiolati al Partito Democratico e in particolare al segretario Mauro Paci per le presunte responsabilità politiche nell'aver in qualche maniera indirizzato il piano acustico, così come è concepito ora e dunque dichiarato illegittimo dal TAR per la zona a ridosso della fonderia. Lo stesso Paci, si legge nella nota, nel Consiglio Comunale del gennaio del 2007, presentò per portare, senza alcun approfondimento e giustificazione tecnica, l'area VECO in classe 5, ove è consentita una soglia di rumorosità più elevata rispetto a quella prevista dal piano. Così come si evince nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale, si legge ancora nella nota, i consiglieri di maggioranza guidati dal loro sindaco, Nilde Maloni, votarono naturalmente contro la mozione, ma il Consigliere Paci trovò l'appoggio della minoranza per far approvare la sua proposta e così fu. L'illegittimità della mozione deriva dal fatto che con la nuova classificazione le due aree a contatto sono venute ad assumere valori incompatibili tra loro, classe 5 vicino a classe 3, e dunque l'adeguimento cartografico richiesto dai tecnici redattori del piano non poteva essere effettuato. La sentenza del TAR, di fatto, riporta in auge i parametri della legge nazionale che per la VECO pone identici parametri della classificazione in zona 5. Alla luce di queste considerazioni, prosegue ancora il Comitato, nulla cambia per la VECO, che dovrà mantenere i propri livelli di rumorosità entro i limiti di legge che al contrario risultano superati, così come già a suo tempo accertato dagli strumenti degli enti rilevatori. Con maggiore attenzione, pertanto, andranno riproposte le misurazioni fonometriche alla luce dei limiti della legge nazionale vigente. Al segretario del Partito Democratico ricordiamo che la salute e l'ambiente sono tra i principi fondatori dello statuto del suo partito e che il Tribunale amministrativo regionale si è semplicemente occupato di verificare la correttezza degli atti amministrativi. Da Martinsicuro a San Benedetto, nuova operazione contro l'abusivismo commerciale da parte della Polizia Municipale, questa volta sul litorale cittadino. Insieme al personale della Capitaneria di Porto e con il supporto a terra dei Carabinieri, gli uomini del Comandante D'Angelo, in parte in divisa e in parte in borghese, hanno operato nella mattinata di oggi sul tratto di arenile che fa dalla foce dell'Albuna fino alla spiaggia libera. Ex Camping, all'altezza della concessione numero 28, il personale ha intercettato tre venditori abusivi di abiti e costumi che esponevano la loro merce avvalendosi di strutture metalliche. Se moventi, alla vista degli agenti, tre si sono dati alla fuga e uno di loro è stato fermato, identificato. Si è proceduto quindi al sequestro di 228 costumi da donna, di 43 abiti femminili e delle attrezzature per l'esposizione nel corso della mattinata. La Polizia Municipale e la Capitaneria hanno anche verificato, sempre nel tratto citato, il rispetto delle norme per l'uso del litorale marittimo che prescrivono una distanza minima di 5 metri tra la battigia e le attrezzature balnearie. Andiamo a Chieti, stamane alla presenza del Comandante regionale d'Abruzzo della Guardia di Finanza dell'Aquila, il generale di brigada Francesco Attardi ha avuto luogo presso la sede del Comando Provinciale la cerimonia di avvicendamento della carica di comandante provinciale tra il colonnello Domenico Pellecchia e il colonnello Vittorio Mario Di Sciullo. Il colonnello Pellecchia, destinato ad un incarico prestigioso presso il Comando Generale, dopo due anni cede dunque il comando al colonnello Di Sciullo proveniente dal Comando Aeronavale Centrale di Roma. E nelle Marche per garantire, cambiamo decisamente argomento, per garantire ad ogni parto un livello appropriato di assistenza ostretica e pediatrica neonatologica la Regione Marche istituisce il sistema di trasporto assistito materno e il sistema di trasporto di emergenza neonatale. La gravidanza e il parto ricorda l'assessore Almerino Mezzolani talvolta possono complicarsi in modo non prevedibile. Questo è uno degli strumenti rinunciabili per la migliore assistenza alla nascita. Rimaniamo nelle Marche, ma parliamo di politica e Consiglio Comunale. Audizione sulle partecipate al Consiglio Comunale di Fermo chiudono in attivo Asite e Solgas, mentre la farmacia comunale contiene le perdite e cambia. Presidente, vediamo il servizio di Donatella Lappa e Salvatore Serretiello. La serata dedicata alle società partecipate in Consiglio Comunale a Fermo finisce per essere un esame per l'amministrazione comunale in un dibattito che si fa a tratti duro. La situazione più rosa è quella della Solgas, società consolidata in grado di produrre fatturati di diversi milioni di euro. Denaro che viene sistematicamente riversato sulla città con il supporto agli eventi, alle manifestazioni, alla cultura, alla vitalità di Fermo stessa. Resta un utile sostanzioso che consente di guardare con ottimismo alle sfide future, anche se la concorrenza che c'è nella gestione della fornitura del metano offre più di uno spunto di riflessione. La possibilità è che la Solgas possa essere venduta quando i grandi colossi dell'energia si saranno consolidati anche per il mercato del metano. Per quanto concerne invece la SITE che gestisce i rifiuti in città, il CDA dell'azienda ha raggiunto un risultato importante, quello di mettere il segno più al bilancio con 302 mila euro di utile. Lo si sapeva già da tempo e alla fine è stato il sindaco Nella Brambatti a dare l'ufficialità nel Consiglio Comunale, invece per quanto riguarda la guida della Pharmacom, della farmacia comunale, società che gestisce appunto la farmacia. C'è stato il passaggio del testimone dal presidente Filippo Ercoli a Marco Carassai, sicuramente un Consiglio Comunale duro e molto teso. in attesa del prossimo che ci sarà il 28 luglio, in cui si presenterà la mozione di sfiducia nei confronti dell'amministrazione comunale, a seguire l'indomani il 29 luglio, quello che riguarda invece il bilancio preventivo 2014. Torniamo in Abruzzo, approvato dalla Giunta Provinciale il progetto esecutivo per la messa in sicurezza idraulica di un tratto del Tordino abbellante all'altezza di Molino San Nicola, dove è in corso un fenomeno erosivo di significative proporzioni sulla sponda sinistra, soprattutto in seguito agli episodi alluvionali del 2011-2013. Con questo progetto sono previste opere di sistemazione idraulica e di ingegneria naturalistica, con la realizzazione di gabbionate sulla sponda sinistra del torrente Ripattoni, con materiale pietroso e ghiaioso reperito in loco. Costo dell'opera 619 mila euro. Per l'intervento verranno utilizzati i fondi regionali destinati alla difesa del suolo, riprogrammati insieme alla Regione che ha già realizzato in quell'area un primo intervento anti-erosione dopo l'alluvione del 2011. Un lavoro importante che realizziamo in coordinamento con la Regione Abruzzo, afferma l'assessore Massimo Vagnoni. Infatti per l'intervento verranno utilizzati i fondi regionali destinati alla difesa del suolo. Dopo l'alluvione del 2011, di concerto con il tavolo regionale, sono state ridefinite le priorità di intervento ed è stato richiesto al Ministero dell'Ambiente la rimodulazione di fondi già stanziati. Il telelaser per il controllo della velocità, il drag test, l'etilometro, un dispositivo per riconoscere tagliandi assicurativi falsi sono alcuni degli strumenti innovativi di cui è dotato il nuovo mezzo, vero e proprio ufficio mobile e in dotazione della Polizia Municipale di Pescara. Il veicolo si sposterà nei quartieri della città. Si tratta di un Citroen Jumper, valore 65 mila euro, acquistato nell'ambito di un progetto cofinanziato per due terzi dalla Regione e il resto dal Comune di Pescara. Torniamo nelle Marche, parliamo di una mostra, dipinti e installazioni nella personale dell'artista Walter Valentini e in mostra al Montevido Uncorrado e affermo fino al 12 ottobre. Già partita la mostra e vediamo il servizio. Sideria Mensura, mostra personale di Walter Valentini, curata da Daniela Simoni a Montevido Uncorrado presso il Centro Studio Svaldo Licini e presso Casa Licini, la casa museo dedicata all'artista, recentemente restaurata e riaperta. Ma anche un'esposizione a fermo presso la Biblioteca Civica Romolo Spezioli. Il Centro Studio Licini, in collaborazione con il Comune di Montevido Uncorrado e con il Comune di Fermo, ha organizzato nelle diverse sedie espositive una mostra dedicata al maestro Walter Valentini, il suo percorso artistico, le tematiche che ha attraversato, il rigore del suo lavoro, la levità, il lirismo, la dimensione cosmica, sono tutti elementi che, pur mantenendo un'indubbia originalità ed una cifra stilistica assolutamente personale, lo rendono autentico erede di Osvaldo Licini. La mostra su Walter Valentini nasce, diciamo, dall'esigenza di iniziare l'attività espositiva nella casa di Osvaldo Licini, recentemente restaurata. A Montevido Uncorrado, nelle sale del Centro Studi e presso la Casa Museo, circa 40 opere, ripercorso tutto, diciamo, l'itera artistico dagli anni 70 ad oggi, quindi un'antologica, diciamo, di opere pittoriche e scultore. A Fermo, la grafica. La grafica è il libri d'artista che costituisce di fatto poi, come dire, il nucleo fondante dell'arte di Valentini, oltre a Fermo e Montevido Uncorrado, una antologica di Valentini anche a Pesaro, alla nuova Galleria Capesaro e a fine luglio a Novilara, nel meraviglioso borgo di Novilara, una mostra dedicata alla grafica di Valentini di grande misura. L'esposizione, che è stata inaugurata il 12 luglio presso la Casa Museo di Osvaldo Licini, e successivamente a Fermo, presso la Biblioteca Spezioli, rimarrà aperta fino al 12 ottobre 2014, con la possibilità di visitare, oltre che le opere dell'artista, anche due spazi molto importanti per la cultura fermana. Torniamo in Abruzzo. Dopo la nota del 30 giugno dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo, con la quale si contestava il bando d'affidamento di incarico di servizi professionali per la ristrutturazione del Cursa, la Giulianova è di 18 alloggi di edilizia convenzionata e la realizzazione di un parcheggio in via Bellini, dichiarando illegittima la procedura, perché non viene fatto alcun riferimento alla determinazione dell'importo a base d'asta, il Movimento 5 Stelle rinnova la richiesta di una giusta procedura da seguire per la redazione del bando. In oggetto, secondo gli attivisti, ancora una volta è stato dimostrato che gli incompetenti non siamo noi che avevamo rilevato delle criticità, ma il sindaco e la sua amministrazione incapaci di gestire le questioni inerenti le opere pubbliche e l'urbanistica, nonché i collaboratori a cui essi si appoggiano. Il Movimento 5 Stelle chiede anche che la scelta dei tecnici avvenga attraverso una gara che prende in considerazione la qualità professionale in funzione di un'offerta economica che parte da una base d'asta, come da decreto ministeriale, che le candidature siano valutate da una giuria esterna e indipendente da questa amministrazione in modo da evitare qualsiasi forma di illazione relativa a clientelismi vari. E andiamo a Tortoretto. L'amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione Albergatori Tortoretto, organizza per sabato prossimo l'iniziativa Camerieri in Corsa. L'iniziativa prevede la partecipazione di camerieri provenienti da hotel, ristoranti e chalet ad una sfida di abilità e velocità nel servire un finto cliente con una portata di brodo. Si classificheranno i primi tre camerieri che riusciranno a conservare durante il percorso tutto il liquido che hanno nel piatto di portata da servire al cliente, il tutto sotto l'occhio vigile di una giuria. Non mancheranno poi momenti musicali. Per gli appassionati della montagna e della natura torna l'iniziativa Parco in treno sulle tracce degli ignomi sulla storica tratta ferroviaria sul Mono a Val di Sangro all'interno del Parco Nazionale della Magiella. Sabato e domenica ci saranno infatti due straordinarie corse ferroviarie dedicate alla scoperta dei luoghi più belli d'Abruzzo. La storica locomotiva D343 che trenerà carrozze d'epoca anni 40 attraverserà sei stazioni in un incredibile percorso nel Parco Nazionale della Magiella dove ammirare scorci inusuali e incontaminati con la meraviglia che solo un viaggio in treno può suscitare. La giornata prevede il viaggio in treno con partenze da Pescara, Chieti e Sulmona fino ad arrivare a Roccaraso dove ci si fermerà per il pranzo. Torniamo nelle Marche, i cibi da Expo arrivano infatti sulla Riviera delle Palme. L'appuntamento è per sabato e domenica alla Rotonda Giorgini di San Benedetto del Pronto. L'iniziativa è promossa da Coldiretti, Ascoli Fermo, dal Comune di San Benedetto, dalla Camera di Commercio di Ascoli e dalla Fondazione Campagna Amica. L'obiettivo è mettere in mostra il meglio delle specialità agroalimentari ma anche per dare consigli utili sull'alimentazione. Il servizio è di Cristiano Pietro Paolo e Vincenzo Ingiulla. Cibi da Expo, ci potete illustrare questa iniziativa che si svolgerà qui a San Benedetto? Sì, 19 e 20 luglio a San Benedetto, Coldiretti, collaborazione col Comune che ci ha messo a disposizione spazi e impegno, soprattutto per le tematiche che riguardano l'agricoltura e anche col padroncino della Camera di Commercio di Ascoli Piceno, organizziamo due giorni importanti dove si parlerà di agricoltura, dove ci sarà un mercato permanente di vendita diretta delle nostre aziende agricole, anche provenienti da altre regioni d'Italia e poi tanti altri eventi perché c'è il 19 mattina la premiazione regionale del concorso Oscar Green che è un concorso nazionale organizzato da Coldiretti per premiare le aziende giovani, le aziende che hanno investito in agricoltura e che danno anche l'innovazione dei giovani, della gioventù in agricoltura. E poi durante il mercato, durante i due giorni, quindi ci sarà la vendita diretta e ci saranno eventi, balli perché c'è anche la musica, quindi cercheremo di animare il viale di San Benedetto dal Calabresi per la cittadinanza e per i turisti che accorreranno in questi giorni. Torniamo in Abruzzo, è stata presentata questa mattina nella sede del Consorzio BIM di Teramo la 34esima tendopoli di San Gabriele che si svolgerà dal 19 al 23 agosto prossimi al Santuario, il tema che affronterà la prossima tendopoli, sintetizzato nello slogan Periferie, grembo della tenda di Dio, trae spunto da una riflessione di Papa Francesco. Per presentare la tendopoli, ha spiegato padre Francesco Cordeschi, ideatore d'anima della tendopoli l'icona che mi affascina di più è la Vergine Maria, una donna di periferia che è diventata grembo di Dio Nazareth era infatti una destinazione assolutamente sconosciuta sulle cartine geografiche e bibliche è una periferia estrema che è diventata significativa proprio in seguito a questa scelta di Dio Nella 34esima tendopoli il tema della periferia verrà affrontato da diverse angolature spirituale, sociale, politico ed economico con uno scopo preciso, ha detto padre Cordeschi che nasce dalla consapevolezza che la periferia è vita, è domani, è speranza è divenire, mentre la città è consumo, passerella, vetrina e commercio e andiamo di nuovo nelle Marche, a Stella di Monsampolo torna per il quarto anno la Sagra sotto le stelle che anche in questa edizione comprende il Festival Canoro il programma del Festival prevede per domani la prima serata con le esibizioni dei cantanti in gara sabato la seconda serata della competizione alla quale parteciperà anche la scuola di danza di Rita Bonfanti domenica gran finale con l'esibizione del gruppo musicale sordiente Slam Rockers e dei Varicella la musica che contagia, seguite dall'elezione del vincitore decretata da due giurie è composta una da esperti di musica e l'altra da giornalisti che assegneranno il libro della stampa e ad Uffida riuniti per la prima volta in un'unica pubblicazione i borghi più belli delle Marche interpretati da schizzi grafici del tutto originali in cui si fondono la natura, la storia e la cultura domani alle 12 al teatro Serpente Auro sarà presentato i borghi più belli delle Marche di Gianni Compagnoni pittore traiese che ha omaggiato la terra marchigiana grazie agli ausili di disegni in bianco e nero accompagnando così il lettore in un singolare viaggio di scoperta e di rivelazione non si tratta solo di un libro d'arte, l'artista ha infatti inserito per ogni paese delle informazioni storiche e dei suggerimenti per il turista verrà inaugurata sempre nello stesso giorno la mostra dei disegni in bianco e nero e la compagnia di musica cultura, il celebre festival della canzone d'autore che da oltre 25 anni scopre i nuovi talenti musicali italiani presenterà in collaborazione con CNA e Fidimpressa a sabato 19 luglio a San Benedetto in piazza Giorgini alle 21.30 un suggestivo appuntamento musicale ricordar cantanto, canzoni e canzonette ideato, prodotto e arrangiato da Piero Cesanelli direttore artistico di musicultura che attraverso le note più famose dei nostri tempi scalderà gli animi e accarezzerà i cuori dei presenti i momenti più significativi della nostra vita sono stati sempre accompagnati resi indimenticabili da questa forma d'arte che è la musica popolare commenta Piero Cesanelli l'idea di ripercorrere gli anni 50 e 60 attraverso la proposta di alcune significative canzoni di immagini che illustrino il costume le tendenze di un periodo storico e di testi che senza essere per niente celebrativi ci facciano calare in quegli anni mi è sembrato il modo più convincente per far riaffiorare antiche emozioni alle generazioni protagoniste di quell'età e per far conoscere la sua grande vitalità creativa ai giovani d'oggi bene ora guardiamo le previsioni del tempo Bentornati con il consueto appuntamento con il Presidente del Meteo per quanto riguarda la giornata di venerdì 18 nella nostra penisola il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento nella fascia settentrionale passiamo ora nel dettaglio con le regioni delle Marche e dell'Abruzzo dove il tempo sarà prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento nella fascia interna per quanto riguarda le temperature si gireranno intorno ai 29 e ai 32 gradi grazie per l'ascolto, arrivederci bene l'informazione finisce qui vi ringraziamo come sempre per la cortesia attenzione vi diamo appuntamento domani per una nuova edizione di G News a tutti davvero una buona serata grazie per la visione